Uno strano furto in un'azienda di logistica. La notizia informale è che un imprenditore della zona era stato vittima di estorsione e le ha curate indagini dei carabinieri della compagnia di Paternò. Questi gli elementi che hanno condotto all'arresto in flagranza di un 28enne, mentre un uomo di 61 anni è stato denunciato, entrambi per estorsione. Il lavoro investigativo svolto dai militari dell'arma ha fatto luce su uno strano furto di merce per un valore di circa 23.000 euro, subito da un imprenditore 47enne dell'area di Motta Santa Anastasia nel proprio deposito e regolarmente denunciato ai carabinieri. Ad estare sospetto la circostanza che in concomitanza del furto fosse avvenuto l'autonome occasionale disinserimento dell'impianto d'allarme del deposito, che invece sembrava essere stato fatto da una persona che bene conosceva le caratteristiche tecniche. Qualche giorno dopo il furto, l'imprenditore sarebbe stato contattato dal 28enne suo dipendente, che gli avrebbe riferito di essere riuscito ad individuarne gli autori e di essere riuscito, insieme al 61enne, anche l'impiegato dell'azienda, a bloccare la merce consegnando ai malviventi 500 euro a titolo di caparra. Cioè in attesa che il titolare si piegasse a pagare 8.000 euro per avere indietro la refurtiva. Dopo qualche giorno di trattative tra i due dipendenti, che si facevano portavoce dei fantomatici latri e l'imprenditore, si giungeva ad accordarsi per un importo ridotto a 2.000 euro, somma consegnata nelle mani del 28enne alla presenza del complice. Il pagamento, avvenuto all'interno degli uffici della ditta, è stato videoregistrato dai militari dell'arma. Incassati 2.000 euro, il 28enne si sarebbe allontanato assicurando all'imprenditore che avrebbe consegnato il denaro ai malviventi. I carabinieri lo hanno pedinato e poi bloccato all'uscita di un centro scommesse di piano tavola a Camporotondo Etneo. All'interno del suo borsello sono stati trovati 1.000 euro in contanti, la ricevuta di una scommessa appena fatta per 500 euro, mentre altri 500 euro erano stati persi poco prima al gioco. Il giovane è stato arrestato e trasferito nel carcere di Piazza Lanza a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l'arresto, disponendo la permanenza in carcere in regime di custodia cautelare.